Questa mattina all'Università di Salerno si presenta il programma volontario in vista dell'Università del 2019 ma la struttura è già pronta, è già operativa, ci sono tanti progetti in ballo. Sì, noi nel 2015 le università furono assegnate dopo che il Brasile aveva rifiutato alla Campania e da quel momento noi siamo mossi, abbiamo programmato tutti gli interventi, siamo andati negli organi di governo, il Senato, l'Accademia e il Consiglio di Amministrazione anche più volte per realizzare una strategia di investimento nel senso che era necessario ristrutturare la palestra esistente a Baronissi, era necessario ristrutturare il palazzetto dello sport esistente a Baronissi, era necessario costruire un nuovo palazzetto, potenziare le reti infrastrutturali e la viabilità. Interventi molto articolati, peraltro solo in parte finanziati dalla struttura commissariale, se è vero che complessivamente noi abbiamo investito 7 milioni di euro, di cui 5 milioni a carico del bilancio dell'università e 2 a carico della struttura commissariale. Era necessario per poter ospitare la scherma, perché ovviamente si tratta di far andare parallelamente in più siti le fasi eliminatorie, le semifinali e quindi la fase di allenamento, ma è soprattutto necessario perché significa lasciare dopo la manifestazione bellissima, al 3 al 14 luglio, un'eredità ai nostri studenti, un patrimonio, un'eredità al nostro territorio, alle loro famiglie, perché ovviamente i nostri impianti come tradizione sono aperti al territorio. E devo dire quindi una strategia complessiva che prevede un nuovo campus di Baronissi. Di fatto il nuovo campus di Baronissi sarà completamente diverso rispetto all'assetto attuale. Un nuovo campus che avrà anche una sua autonomia dalla parte didattica rispetto alla parte sportiva. Cioè ovviamente comunicante, però c'è la possibilità di autonomizzare la parte sportiva e quindi rendere una cittadela sportiva aperta 24 su 24. Ovviamente oggi c'è la fase infrastrutturale, diciamo l'hardware, c'è la parte del software. E il software sono innanzitutto i nostri giovani. Bisognava far partire il programma di reclutamento, quindi di intesa con la struttura commissariale, con il prefetto Latella, con il quale c'è una continua interazione. Abbiamo deciso di fare questa giornata oggi qui, come peraltro si organizza anche nelle altre università. Qui c'è stata una partecipazione, una folla, un bagno diciamo di entusiasmo, che ci dà sinceramente, ci ripaga anche dei tanti sacrifici che sono stati compiuti in questi anni, perché mentre altri discutevano sul perimetro, diciamo, sugli impianti da far rientrare in università, noi invece lavoravamo programmando e oggi infatti siamo già pronti quando gli altri ancora devono partire. Detto questo, ovviamente, le nostre specificità di campus implicheranno un coinvolgimento molto attivo dei giovani, perché se noi avremo le università all'interno del campus di Baronissi, anche con qualche problema ovviamente e disagio che nasceranno gli studenti, di che devono essere partecipi di questo progetto, e il villaggio degli ospiti noi risponderemo nel campus di Fisciano, nel lato, diciamo, delle residenze, però è chiaro che questo coinvolgerà tutta la nostra attività, con l'allestimento di un presidio ospedaliero curato dal nostro ordinario di ortopedia, e il professore Maffolli, insomma, noi vivremo questa esperienza all'interno della nostra università, con tutti i vantaggi, l'entusiasmo, però anche con qualche problema che può creare all'utenza gli studenti e qui dovremmo fare in modo, diciamo, di limitare i disagi e allo stesso tempo enfatizzare gli esiti, diciamo, di una manifestazione e soprattutto mi sia considerato dopo un patrimonio infrastrutturale che già ci invidiano, ma che ci invidieranno sicuramente tutt'Italia. Le università sono una cosa straordinaria, 1959-2019 siamo alla trentesima edizione, gli università ritornano in Italia, ritornano a sud, a Napoli, a Salerno, ed è, sarà una vetrina straordinaria con 170 paesi del mondo, circa 10.000 atleti, oltre 40.000 accreditati, sarà un momento importante per la Campania e soprattutto anche per noi qui a Salerno. Il programma volontari è una delle sfide di questa università, una sfida difficile che noi dobbiamo vincere, come tutte le altre sfide, perché le università rappresentano oggettivamente un banco di prova molto forte e bisogna fare una squadra, solo uno spirito di squadra con i rettori, con gli Atenei, con gli enti sportivi, con il Cusi, con il Governo, con la Regione, con i Comuni, riuscirà a dare un grande slancio a questa manifestazione. Il programma che noi stiamo proponendo insieme con il Commissario, quello dei volontari, rappresenta un momento di straordinaria importanza, perché moltissimi ragazzi saranno coinvolti in questa manifestazione ed è importante non solo la fase del reclutamento, ma soprattutto quella della successiva formazione, per cui noi ci siamo, siamo disponibili e speriamo che la cosa vada nel migliore dei modi possibili, così come l'assegnazione e anche la conclusione di questa manifestazione. Proseguono i preparativi e le presentazioni in vista dell'Università del 2019. L'Università di Salerno, tra l'altro, sarà la sede, il teatro dove si esibiranno gli atleti della scherma. Un momento importante questo. Ma è la regione per la quale oggi sono venuto, ho scolto l'infido, perché, visto che la scherma sarà ospitata in quella di Salerno, mi sembrava un atto dovuto, un piacevole atto dovuto, quello di portare il saluto della scherma italiana, ma, oltre al saluto, l'impegno a onorare al meglio questo appuntamento, non solo sotto il profilo agonistico, ma anche da un punto di vista organizzativo, nel mettere a disposizione tutto il know-how che questo monto della scherma italiana possiede, alla luce di grandi eventi organizzati. Ultimo, in ordine di tempo, il campionale del monto Verona 2018, che è stato un successo riconosciuto a livello planetario. Ecco, io credo che, quando vi sono occasioni come quelle delle università, credo che l'Italia si debba unire e lavorare affinché il risultato sia quello auspicabile, quello sperato, e quando questo avviene al sud Italia, credo che ci debba essere proprio un salto di qualità, un colpo di reni, per far sì che non si caschi nel famoso detto che alcune cose si possono fare solo in alcune parti del Paese. Io sono convinto che tutto si può fare dappertutto, l'importante è l'impegno, la buona volontà, le cose fatte con correttezza, con onestà, con l'entusiasmo che deve essere alla base di queste iniziative, perché sono iniziative che nascono dall'entusiasmo di chi pensa di portare qualcosa di buono nel territorio e pertanto tutto deve essere improntato al grande entusiasmo, al grande senso di appartenenza e la scherma italiana in questo senso vuole unirsi al comitato organizzatore delle università e far sì che questo appuntamento diventa un appuntamento per il nostro Paese da ricordare perché come diceva il Presidente del Cusifo Canse, in giro per il mondo c'è voglia d'Italia, c'è piacere d'Italia, questa voglia, questo piacere, questa fiducia che nel mondo riponca sul nostro Paese la dobbiamo testimoniare con un impegno serio ed autentico. Universiere 2019 è un'opportunità per tanti giovani di vivere un'esperienza unica ma anche un'opportunità per il territorio grazie alle infrastrutture che poi verranno costruite e lasciate sullo stesso territorio. Una delle caratteristiche dell'universiadi è quella di lasciare quello che loro chiamano legacy, cioè lasciare al territorio delle strutture che restano e per quel che riguarda l'universiadi del 2019 qui a Napoli e Salerno, noi è previsto che lasciamo una bella serie di strutture all'interno dell'università che poi saranno fruibili dalla popolazione studentesca nei prossimi anni. Per gli studenti invece l'opportunità è molto importante perché c'è un confronto di livello internazionale con il mondo dello sport internazionale. È un confronto anche in termini di possibilità lavorative perché il volontario non è soltanto affiancato al professionista dello sport, è anche colui che darà un impulso, migliorerà le proprie capacità nelle attività lavorative che gli verranno chieste di fare in occasione della manifestazione. Presentazione del programma volontario universiadi 2019 è un'opportunità per tanti giovani di confrontarsi con una realtà importante come questa. Sì, veramente il programma volontari è un'opportunità per tutti i giovani della campagna, non solo universitari, ma noi vogliamo centrarsi più sugli universitari per conoscere come si organizza il secondo evento più importante al mondo, nel mondo multisport, eppure l'opportunità di trasmettere i valori della campagna ai 10.000-12.000 atleti che verranno, perché il contatto diretto non ce l'hanno col comitato organizzatore, il contatto diretto ogni giorno si fa con i volontari, è il volontario che deve dimostrare che la campagna è una regione dove si vive bene, dove c'è cultura, dove c'è sport, dove c'è voglia di fare le cose bene, e quello si farà attraverso i volontari, sono loro il testimone. Nel tempo stesso potranno anche ricevere tante informazioni da tante realtà diverse, tante culture diverse? Effettivamente, ma non solo impareranno della gente che viene, vanno a imparare dei professionali che organizziamo eventi sportivi, è una porta che si apre a un possibile futuro di organizzatore sportivo, e vedendo i grandi professionali che lavoreranno sull'università di Dalconi, professionali internazionali come me, dalla FISU, che è una delle federazioni più antiche al mondo, impareranno veramente come si organizza un evento multi-sport. Allora è veramente un'opportunità che non devono far scapare. Grazie. 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 Grazie.